Per il secondo anno consecutivo il Comune di Fano ha ottenuto su scala regionale il contributo più sostanzioso da ripartire alle famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento del canone di locazione. La cifra totale che verrà messa in campo ammonta 958 mila euro. Il Comune infatti anche quest'anno ha deciso di compartecipare con risorse proprie per 170 mila euro. A questi si vanno ad aggiungere 788 mila euro da riparto del Fondo Nazionale gestito dalla Regione Marche. Molte più domande, quindi il fabbisogno è aumentato, sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, però riusciamo a coprire tutte quelle domande che sono ammesse per il 66% del fabbisogno. Infatti se nel 2021 erano state presentate 398 domande e 300 nel 2020, in occasione dell'ultimo bando sono state avanzate 623 richieste di cui 28 escluse per mancanza di requisiti. Le famiglie avranno tempo fino alla fine di gennaio per presentare la documentazione giustificativa, cioè i vari pagamenti dei canoni effettuati nel corso del 2022. Poi entro i primi giorni del mese di marzo si provvederà alla liquidazione direttamente sul conto corrente bancario. Chi rientra nella fascia con un ISEE inferiore a 6.085 euro avrà un contributo massimo di 1.000 euro, mentre se l'ISEE si estende fino a 12.170 verrà riconosciuto un importo maggiore che può arrivare fino a 2.000 euro. Questo risultato, ha commentato il sindaco Seri, deriva da una scelta politica ben precisa. Dare una risposta all'emergenza abitativa è sempre stata una delle nostre priorità. L'aumento delle domande, ha spiegato Seri, corrisponde a un aumento del disagio abitativo anche a causa del carobollette, a un grande lavoro di comunicazione finalizzato ad arrivare a tutti i cittadini, ma anche alla fiducia verso l'amministrazione che ha aiutato le famiglie nella compilazione delle domande per le quali serviva lo SPID o la carta di identità elettronica. Rimanendo in tema di disagio abitativo, questa è soltanto una delle misure previste? Sì, questa chiaramente è una delle misure e tra l'altro mi fa piacere anche che è il frutto anche di un percorso di condivisione anche con le organizzazioni sindacali, ma accanto a queste ci sono altre misure, altri interventi che l'amministrazione comunale fa cercando di andare incontro a quella che è l'emergenza abitativa perché c'è da una parte il tema, purtroppo anche quello di difficile soluzione che è quello degli alloggi delle case popolari che anche quest'anno vede un incremento di domande e che ha a disposizione risorse dal punto di vista della disponibilità di alloggi limitata, ma soprattutto interveniamo come amministrazione comunale con convenzioni o contributi col fondo di garanzia per cercare di, con un elenco di fornitori che hanno partecipato a un avviso, a una manifestazione di interesse e quindi hanno messo a disposizione degli alloggi per le situazioni di fragilità, di vulnerabilità che sono seguiti anche dai nostri servizi sociali per cercare di dare un sostegno e qualora queste famiglie, questi soggetti non riescono ad assolvere al pagamento del canone di locazione il comune, l'amministrazione comunale, i servizi sociali intervengono con l'apposito fondo di garanzia. I bilanci dei servizi sociali ed educativi sono infatti in costante crescita in termini di stesa come ha evidenziato l'assessore Cucchiarini la quale ha ricordato anche la cifra di un milione e mezzo di euro messa a disposizione per ridurre le bollette delatari a famiglie e imprese l'ultima tranche agli aventi diritto verrà rimborsata entro febbraio. l'ultima tranche agli avanti